Una forcola in regno, un momento di preghiera dei giovani per Papa Francesco alla salute, era messa a disposizione da parte della Diocesi Patriarcato di Venezia di piccoli alloggi per persone in momentanea difficoltà. Sono questi i doni principali che la Diocesi di Venezia e il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, faranno al Santo Padre in occasione della sua visita a Venezia di domenica, visita che vivrà in carcere nell'incontro con l'arte e le detenute, uno dei momenti più forti. È un evento straordinario perché si riesce a coniugare la bellezza e l'universalità dell'arte con i valori che la Santa Sede, che la religione, che la spiritualità del committente in qualche modo è in grado di offrire alla popolazione detenuta. Noi vogliamo che queste cellule vitale della società entrino nei nostri istituti penitenziari, ci aiutino alla opera di risocializzazione, rieducazione della popolazione detenuta. Il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria italiana Giovanni Russo non nasconde l'emozione. Ho pensato che era esattamente quello che ha un cristiano, che oggi ha un compito, una missione importante come quella di dirigere l'amministrazione penitenziaria, era un dono che non poteva essere rifiutato, anzi che forse era atteso da tanto tempo. Significa elevare a modello di una nuova visione il trattamento penitenziario per i nostri detenuti. È un evento che farà storia, che già adesso è un unicum in campo mondiale, non solo nella storia dell'esecuzione della pena nel nostro paese, ma anche a livello mondiale e che troverà il suo, diciamo, il suo culmine, il suo suggello formale con la visita del Santo Padre.